Ehi, Mico! Sassera cominciamo a guardare cosa! All'è odio dico io! Chi... CHI EÈ? Ah! E' una stupenda notizia! Dobbiamo invitaci insieme! Sono pronta! Ah! Ma c'è qualcuno? Ci siamo anche noi! Ho voglia di guardare chissà chi è! Elefante sto! E so che mi mi... Ah! C'è vero! Guarda la visione di Suzuki! A chi a tutti possono guardare chi è? Per forza! Tutti! Ragazzi! Ragazzi! Sta per cominciare! Benvenuti a Chissà! Un game show su Novi! Che non è Novi! Si vuole proposti scopi! E a nulla! Si novi! Si novi! Ed è qui vostro voto! Dove di sassera! Avedus! Oh! 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 Un'ora dopo! Non ci credo! E stavano le parti! Allora, Francesco! Evo un contrattore di affari tuoi! Poi c'è il nuovo! Vale! Vi conto due! Ti avrà un paio tuoi! A no! Oh! Stiamo venuti mattino! AHHHH! 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 Grazie a tutti.